Un grande classico ripensato anche a livello di trama, sabato sera nell'ambito della rassegna Lazio in scena, lo spazio Rossellini di Roma farà da cornice allo spettacolo Giulietta con regie e coreografie a cuora di Loredana Parrella. Lo show prodotto da C.E. Twain Physical Dance Theater si ricollega a Romeo e Giulietta di William Shakespeare sviluppando però in maniera originale l'intreccio. Giulietta si chiama Giulietta e quest'ultima non pone fine alla sua vita una volta venuta a conoscenza della scomparsa di Romeo, ben si sceglie la vita, dunque salta fuori dalla storia e ne scrive un'altra. Il viaggio della protagonista coinvolge lo spettatore il quale riesce gradualmente a entrare nel suo mondo fatto di ricordi, tensioni e amori che non si concludono. Con Enéa Tomé incaricato di supervisionare la grafica, Giulietta si avvale dei testi d'Alexandros Memetai, della progetto Luci di Gianni Melis, della direzione tecnica di Marco Guidi e dell'assistenza alla coreografia di Ioris Petrillo, inizio previsto alle 21.